Devo dire che il mio percorso è un po' particolare perché sono nato con appunto i lavori su commissioni, i videoclip prima, le pubblicità poi e poi sono approdato al cinema e questo forse mi ha dato una sorta di lucidità nel giudicare quello che facciamo, noi in realtà semplicemente cerchiamo di raccontare emozioni se possibile con le immagini, quindi questo che fra l'altro trovo un modo molto contemporaneo di rappresentare la realtà perché adesso il confine fra web, cinema, teatro, è sempre più labile e quindi devo dire ho fatto tesoro di tutte le esperienze che ho fatto e spero di continuare a farne di nuove, quindi per esempio questo è un modo di rappresentazione ulteriore, nuovo e diverso, quindi anche questo è un modo di comunicare, ormai tutto è comunicazione, quindi è sempre interessante, noi raccontiamo con le immagini e a me piace questo ruolo. Ovviamente dal mio punto di vista è fondamentale e credo che ormai per qualsiasi settore è importante comunicare con le immagini, da ormai l'estrema fruizione del web che ormai vive più di immagini che di parole, credo che sia un modo per esprimersi molto diretto, molto immediato e a volte alcune cose che non si riescono a raccontare a parole con una singola immagine diventa molto più forte. Io ho notato tanta qualità sia di immagine, di messa in scena, di scelte, il passaggio verso il cinema in alcuni casi forse passa attraverso la lucidità nel raccontare delle cose, delle volte ogni tanto facevo un po' fatica a perdere, a trovare il nesso diretto, però ovviamente io giudicavo più la parte cinematografica, quindi in effetti per andare a raccontare storie bisogna infatti raccontarle spesso in maniera molto chiara per poi arrivare al pubblico più ampio possibile. C'è sempre questa diatribra nella pubblicità nel cercare di fare un racconto anche di immagini che si possa svelare a più riprese, perché in effetti lo spot estremamente plateale è quello che ti stufa subito, lo vedi tante volte e dopo un po' quasi ti da noia, invece se hai un racconto, uno stile di ripresa, un qualcosa che si svela pian piano lo rivedi volentieri, sì sì quindi assolutamente d'accordo ed è anche per certi versi il fascino della pubblicità.